buonasera eccoci qua allora andiamo in diretta anche su instagram questa sera perché siamo saremo connessi in tutti e due i social vediamo se il telefono tiene come al solito non giro la videocamera allora così eccoci buonasera a tutti mamma mia ragazze ok perché non mi si gira perfetto dovrebbe star fermo buonasera 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 ciao fede ciao sabri ciao anna ciao meri e allora vediamo cosa posso mettere per sostenere ecco il mio profumo di chanel così facciamo pulizia occulta io uso non so se voi ne avete mai visto questo è stra buono sto finendo ma è il mio profumo preferito ci sono ragazze arrivo datemi un secondo che la isa c'è allora buonasera popolo instagram buonasera popolo facebook eccoci qua di cosa parleremo stasera ve lo un po un po un attimo solo perché devo sostenere il telefono arrivo allora eccoci qua eccoci allora adesso vi racconto una piccola cosa ragazze che ho appena visto in tv ok fatalità ma per me non è mai un caso al mondo nulla stavo guardando canna vacciolo sapete cucina incubo no che fa lui c'è una cucina incubo si chiama roba del genere e ho visto una cosa che mi ha commosso e voglio condividerla con voi prima di iniziare a parlare dell'argomento io lo guardo spesso perché trovo molti riferimenti no quando io vado nei centri estetici sono tornata da napoli e da salerno proprio l'altro ieri sono andata in un centro a fare questo e a guardare un po la situazione essendoci vivendola un pochino all'interno qui della pulizia come sono le ragazze parlando con le ragazze capendo un po grazie anna grazie mille e capendo un po quello che accade quindi ogni tanto me lo guardo così e questa sera praticamente hanno fatto una puntata non so se l'avete vista dove c'era un cuoco simpaticissimo romano che però era disorganizzato da morire e buono d'animo non me ne freghisse ci stava male che non riusciva ad organizzarsi non riusciva a leggere le comande non riusciva a far tutto allora canna vacciolo cosa ha fatto è quasi commovente sta roba gli ha messo in cucina un cuoco quasi cieco gli ha detto ti presento lui si chiama gliel'ha presentato lui ha un problema grave di vista però ti aiuterà nell'organizzazione ovviamente sapete che i ciechi o comunque lui aveva un occhio che era completamente non ci vedeva un occhio tutto chiuso e l'altro meno sapete che diciamo una persona che ha un problema di questo tipo esalta altre sensibilità no e cosa succedeva che gli ha fatto vedere per esempio come si affetta molto velocemente una zucchina quindi ha preso le mani del titolare del ristorante le ha messe sopra le sue e ha fatto vedere come affettava velocemente una precisione assoluta sentiva i rumori se fai troppo rumore vieni qua guarda ti aiuto io e praticamente questo titolare del ristorante si è trovato a rendersi conto che si sentiva protetto da questo cuoco nonostante fosse cieco che praticamente gli stava facendo vedere come si faceva il lavoro del cuoco con tutte le difficoltà che un cieco può avere che lui non aveva perché lui ci vedeva benissimo quindi il messaggio è stato fortissimo questo titolare si è commosso ed era un omone sapete di quelli romani un po' diciamo così che sembrano così omoni ecco no che non pensi mai che si commuova e invece si è commosso perché detto il messaggio che mi hai lanciato con il tuo problema è stato grandissimo cioè se ce la fai tu ce la posso fare anch'io e mi hai commosso e questo cuoco bravissimo cieco quando ha capito che lui sarà commosso gli ha risposto vedi io ho questo problema agli occhi ma tu hai un organo che va benissimo invece che il cuore quindi è stato un bellissimo finale che ho voluto condividere con voi perché lo trovo molto molto vicino all'estetista è questo no cioè trovare una persona che ha un problema così grave che ti fa vedere la passione di un lavoro che ti fa vedere che lui lo fa magari a livelli grandissimi nonostante non ci veda è un grande messaggio come dire tu ce la puoi fare hai tutto dalla tua parte se ce l'ho fatta io quindi ecco scusate se ho iniziato così la mia live però quando vedo queste cose qua io insomma mi emozionano e quindi ho voluto condividerle condividerla con voi allora quanta gente siete già in 43 su facebook e in circa 20 su instagram ciao ciao emi ciao 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 bacio allora buonasera a tutte allora vedo un po di gente la anna grazie anna jacqueline petrisi anca carmen nina giulia gabriella rigo ciao crì francisca defraita silvana titti olga la jè vanessa rocchina sant'arcangelo alessia federica dorina arianna roberta sara e adri e si vede che sei una persona bellissima e sensibile grazie vediamo chi me l'ha detto anna grazie anna grazie mille la camila ciao cami ciao ok allora iniziamo debra eccoti benissimo allora ragazze il titolo di questa live è si può lavorare facendo compromessi sulla qualità punto di domanda adesso mentre io grazie cami grazie mille mancano le tue unghie ma adesso me lo farai adesso mentre io inizio a parlarvi e a spiegarvi quello che secondo me è diciamo importante dal punto di vista del vi dico il mio parere no su quelle cose che si possono tra virgolette sulle quali si può risparmiare sulle quali meno voi iniziate a scrivermi per favore le cose che in questo momento sulle quali state risparmiando così magari creiamo mi aiutate sulla live parentesi mega importante prima che inizio la live allora ragazze state con le antenne molto alte domani perché questo messaggio è rivolto a tutte le estetiste titolari dipendenti o non estetiste ma che comunque vogliono approcciarsi al mondo dell'estetica che hanno sempre voluto venire ai miei corsi ma o per un motivo economico o di tempo o magari proprio economico non sono venute sappiate che c'è il black friday quindi abbiamo pensato di una promozione diciamo veramente che possa aiutare vi do un piccolo indizio voi e il vostro staff non dico altro quindi orecchie alte antenne altre se questa sarà la cosa giusta io sarò felice di aiutarvi venendovi incontro attraverso proprio il black friday ok ragazze quindi mi raccomando poi questo messaggio lo ripeterò anche dopo allora iniziamo Iole dov'è Johnny pensate che la Iole mi ha detto che ho conosciuto il suo marito della Iole che è fantastico che è un ragazzo speciale e sono in debito e mi ha detto che mi seguo anche lui praticamente no che la sera loro cenano solo dopo la mia live quindi mi dispiace farò in fretta così potete cenare stasera un bacio a Johnny grande ok allora ragazze io che cosa penso riguardo al fatto dei compromessi no allora personalmente ho un difetto ma è un difetto vero attenzione non è un difetto finto io sono poco propensa ai compromessi da sempre quindi io è abbastanza risaputo che su certe cose non riesco a risparmiare anche su altre perché sono un po con le mani bucate io e quindi questo è il mio difetto lo ammetto però soprattutto quando si tratta delle clienti delle mie clienti delle clienti di un centro estetico che sono a loro volta clienti di una mia cliente lo sono ancora meno quindi da me difficilmente avrete dei consigli o tanti consigli io siccome ho rispetto di voi e del tempo che mi dedicate in queste live mi sono appuntata alcune cose perché io le live me le preparo prima di farle per me lavoro eh non è che sono qua a pettinare le bambole di conseguenza ciao zia di conseguenza mi sono scritta delle cose che secondo me sulle quali si potrebbe in qualche modo risparmiare ma non aspettatevi che siano tantissime ve lo anticipo già perché ci ragioneremo insieme insomma allora compromessi lavorare con i compromessi compromettendo la qualità eh significa risparmiare su cose sulle quali magari non è molto opportuno risparmiare perché ahimè poi a diciamo subirne le conseguenze prima la nostra cliente e di conseguenza noi perché le clienti che perdiamo poi ovviamente è un danno che ci facciamo noi stesse ok questo è che sia chiaro allora ehm ho conosciuto tanti centri estetici nella mia vita tante estetiste che ho visto di tutto ragazze ho visto addirittura utilizzare ascoltatemi bene la radiofrequenza spenta mi state seguendo cioè io ho visto davanti ai miei occhi un estetista che mi ha detto testuali parole questa è una cliente di groupon e io per le clienti di groupon non consumo neanche l'elettricità non so se posso commentare una cosa del genere ma voi non potete immaginare cosa ho detto io e vi assicuro che è meglio così ok è meglio così per tutti non è non è argomentabile una roba del genere no perché è talmente lontana dal dalla decenza umana che non mi verrebbe neanche da parlarne però siccome le ho viste le cose vi dico quello che ho incontrato nella mia vita ho visto utilizzare al posto dei kleenex la carta igienica quindi ovviamente siccome se fosse rimasto il rotolo la cliente se ne sarebbe accorta questa cosa ha pensato bene di fare di srotolare tutta la carta igienica dal rotolo e di metterla no tagliate strapparla qui quadratini utilizzarla per imbevere il viso col tonico ok quindi queste sono delle esagerazioni che non che so perfettamente che nessuna di voi utilizza e che però era giusto che voi vi rendeste conto di quello che c'è in giro dato che la sottoscritta di centri estetici ne ha visti molti poi ovviamente non ci sono questi casi ci sono anche casi diversi tipo estetiste che hanno invece che la linea cosmetica per esempio per il viso che accontenti diciamo la pelle sensibile quindi cuperose che accontenti la pelle acnelica e che serva per le rughe ma che serva anche ma che abbia anche diciamo la linea adatta per le macchie e che magari abbia anche la linea per la zona oculare insomma che per tutti gli inestetismi viso ci sia la sua linea ci sono estetiste che questa cosa non ce l'hanno e che quindi così a tutte le clienti vanno di aluronico perché comprano solo quello o vanno di collagene perché tanto alle va bene collagene per tutti perché così risparmio il prodotto non mi rimane fermo e la cliente si accontenta di quello che c'è ecco anche questo è lavorare a compromessi no il rischio qual è il rischio è che intanto fate passare le clienti per sceme no fate voi fanno passare le clienti per sceme queste estetiste e vi garantisco che le clienti sono tutto tranne sceme tutto tranne sceme e soprattutto se voi un giorno di che un giorno arriverete a chiedervi a chiamare aziende come la mia che servono per capire come mai il centro vostro magari potrebbe funzionare di più o potrebbe far di più e a farvi questa domanda cioè a dire ma come mai che il mio centro non va bene come mai cioè perché le cose non è che accadono all'improvviso cioè non è che c'è la cliente che dice senti ma tu hai usato il collagene su di me che invece su di me andava usata la vitamina C ecco non non magari non accadrà questo però accadrà che la cliente non sarà contentata dal punto di vista del risultato nello specifico dell'esigenza che magari ha richiesto e quindi i soldi sono preziosi per tutti di conseguenza non vi dirà niente perché è educata ed è gentile ma non la vedrete più oppure verrà per fare che cosa quelle cose comode siete vicine costate poco e quindi verrà da voi a fare le mani piuttosto che la cera però i trattamenti da 1000 euro preferirebbe darli a qualcun'altra che invece mette mano al portafoglio si preoccupa di dare il prodotto giusto la cliente giusta senza risparmiare sulla pelle delle clienti ok allora arianna mi scrive io ho clienti di gruppon che mi spendono 3000 euro giusto arianna lo so benissimo parli con una persona che ha lavorato sia con gruppon e tuttora lavora con un sistema di innesco per portare clienti all'interno centro estetico che si avvale di una promozione allettante anche economicamente e poi questi clienti che spendono anche poco si ritrovano a spendere a fare programmi importanti ma come perché devono trovare dall'altra parte dall'altra parte devono trovare il compromesso qualità risultato consulenza giusta e tutta una serie di cose che adesso non è il caso di parlarne perché la live è verte su un altro argomento perché ovviamente per vendere 3000 euro tu sai benissimo arianna che non serve solo il prodotto buono ma serve anche la comunicazione giusta serve anche tutta una serie di altri fattori quindi non basta purtroppo avere la macchina buona il prodotto buono per vendere 3000 euro è richiesto un altro scalino in più dal punto di vista comunicativo che non viene detto che sia collegato anzi non è collegato solo al prodotto ciao mo mo ga oxana ciao danni dove lavorava una mia ex compagna di classe mi dice l'aria riciclavano gli slipman oh mio dio questa mi mancava mamma che schifo mamma mamma non ci voglio pensare è questo è quello che succede sono sconvolte l'aria sì sì ma non ho parole voi pensate che questi centri per quanto mi riguarda dovrebbero aver chiuso ieri ok completamente tutti mi dice scusami ma queste non possono chiamarsi estetiste giusto sono d'accordo sto sentendo leggendo cose assurde avrò incubi stanotte immagino daniela ciao frenci marzia e iole sì ragazze è così ci sono centri estetici che reciclano gli slip itanga ci sono centri estetici che utilizzano le apparecchiature spente ci sono centri estetici che utilizzano la carta igienica al posto di kinex per risparmiare allora su cosa io non transigo dal punto di vista diciamo del su quali cose io non vi dirò mai di risparmiare prima di tutto sulla sterilizzazione e sulla sicurezza della cliente e vostra anche chiaramente quindi autoclave innanzitutto e tutti i prodotti che servono il teracetico tutti i prodotti passaggi che rispettano la la sterilizzazione e la disinfezione degli arnesi ok hanno un costo e non si può risparmiare non si può sterilizzare con l'alcol non si può passare soltissimamente sotto l'acqua non si può utilizzare uno spray che vi vendono le aziende magari che serve solamente ma che non toglie residui organici per esempio come sangue quindi questi compromessi io sono i primi ai quali sto attenta e che ai quali non transigo perché si tratta di sicurezza contro malattie come l'epatite l'AIDS che voi magari non immaginate però esistono ok e si trasmettono attraverso il sangue e vi ricordo che le lame scusate per le unghie tagliano i tronchesi anche di conseguenza dobbiamo noi siamo a contatto e quindi non smetterò mai di dirvelo quindi ci sono certe cose tipo l'igiene e la sterilizzazione che sono per vanno per prime in quest'ordine messe ok in cosa poi non transigo siccome ne va del risultato che noi diamo alla cliente io non transigo sul risparmiare cioè sul fare questi giochini qua quindi non avere tutti gli arnesi che servono a fare di trattamenti estetici io per arnesi non mi riferisco soltanto alle apparecchiature ma se io ho diciamo con il mio lavoro posso avere sette tipologie di inestetismi per il viso e ho una o barra due linee cosmetiche soltanto o io per etica non propongo alla cliente un trattamento per l'acne se non ho niente contro l'acne oppure io non sono etica e vado a risparmiare sulla pelle della cliente il discorso del collagene di cui vi parlavo prima collagene per tutte perché compro solo quello per risparmiare questo danneggerà ovviamente il risultato della cliente che butta via i soldi anche se voi direte vabbè ma il trattamento del collagene se l'è fatto sì ma non è venuta lì per quello cioè io tu mi hai fatto una cosa che non t'ho chiesto per carità non mi hai fatto del male ma non mi hai risolto il problema non mi hai dato un qualcosa che davvero serve a me e che vedrò tra un po' un risultato effettivo. Sulle apparecchiature per esempio è indispensabile averle però è vostro diritto cercare di risparmiare sulle apparecchiature pur avendo comunque un'apparecchiatura che abbia una sua funzionalità un suo perché quindi lì c'è molto margine c'è un mondo da vedere da controllare quindi si può risparmiare sulle apparecchiature però non si può diciamo come nelle linee viso non avere tutto quello che serve quindi se io non ho niente per l'adipe io non posso parlare di riduzione in centimetri perché non ci arrivo quindi il solito discorso di prima c'è una marginalità c'è tanta scelta nel mercato quindi potete risparmiare pur avendo comunque una buona macchina che abbia dei compromessi corretti. Una cosa sulla quale potete risparmiare per esempio è il monouso anche se, apro una parentesi, io sapete che sto facendo il nostro centro estetico, ok? Io ho deciso di far fare ovviamente ho già predisposto il tutto ciabattine, asciugamani, turbante per la testa, fascette e tutto quello che è la biancheria del centro estetico ho deciso di farla un po' bella quindi dal logo del centro estetico alla qualità che non è neanche una spugna ma sarà una sorta di di vellutino nelle ciabattine per esempio a volte da una garzina quindi a volte da un sacchettino quindi io non ho badato a spese io, ok? Perché il mio diciamo progetto personale prevedeva questo per una serie di motivi che se vorrete un giorno magari vedremo modo vi spiegherò perché ognuno di voi ha un progetto, no? Ha un target di clientela o vuole accontentare una determinata fascia di anche esigenza, c'è chi apre la spa, c'è chi lavora con l'estetica di base di lusso, c'è chi lavora con l'epilezione in particolare, c'è chi punta tantissimo su per esempio l'impatto scenico dell'arredamento quando entri e magari prende un monouso normale, però a livello di resa sul monouso posso risparmiare perché alla fine se io guardo un cartene la funzione che ha è di trattenere il calore però che io vada a prendermi il cartene da non so un euro e mezzo a foglio di cartene, faccio per dire un esempio, sono anche presente se ho detto una cosa alta o bassa se non mi ricordo ma sicuramente alta, vado a fare la stessa funzione che farebbe un cartene da 0,30 centesimi per esempio, la ciabattina di carta l'importante è averla, ok? L'importante appunto è dare il servizio della ciabattina poi se è serigraffata con l'occhio, se non lo è, se è in spugno, se ha meno, questo sarà, eleverà o meno il vostro listino prezzi però diciamo che a livello di risultato io do sempre un servizio che è quello del monouso che è fondamentale ma lì posso un pochino effettivamente prendere e risparmiare senza ombra di dubbio, leggo alcune domande se no che live è, se parlo solo io. Allora, Patrizia, Isa raccomanda più igiene nelle cabine, hai ragione, su questa cosa mi batto moltissimo, tra muri imbrattati di olio e imbrattati di cera scaldacera con spatole che gridano vendetta potrei star qua ore, quindi mi raccomando è più importante di tenere pulita casa vostra, tenere pulito il vostro centro estetico perché se voi decidete di vivere in uno spazio che non è pulitissimo è vostra responsabilità, se costringete le vostre clienti a viverci allora lì maleducazione è mancanza di rispetto che è diverso. Dove lavoravo io in un centro estetico senza sterilizzatore, sterilizzavano gli attrezzi con il disinfettante per ospedali, eh non è completa la sterilizzazione così quindi non è completa e tante come dicevano risparmio di scapito della salute dei clienti, verissimo. Poi, preferisco lavorare con prodotti di cemarica di qualità perché è vero che costano di più ma scelgo il mio target, giusto? Giustissimo, ma non solo scegli il tuo target, se io uso un gel, un semi permanente e risparmio io lo noto che è meno lucido, che dura meno, che è una tenuta minore, cioè queste cose poi ovviamente si ricadono sul risultato che tu dai alla cliente, non solo sul target, capito? Ma non erano vietate le lame, allora dipende da che lame, io parlo di lime Federica, non di lame, sono vietate le sgorbie nel diciamo perché non si può fare un po' di cur curativo, questo è vietato. Ecco, dipende il target, dovrei chiudere e riaprire. No, perché Silvia? Chiudere e riaprire, riabituare la cliente è un qualcosa che si può fare, è lento come processo ma si può fare. Io mi ricordo che in un centro estetico ancora 4 o 5 anni fa, sopra un po' l'ambulatorio, avevano una diciamo qualità altissima, come perché figurarsi, erano sopra un po' l'ambulatorio, il centro era molto bello, però avevano dei prezzi troppo bassi, cioè loro non solo avevano autoclave, più ne metta, però avevano anche addirittura la, come avevo anch'io per quello, niente di escezionale, cioè nella vaschetta dei piedi c'era, sapete la vaschetta usagetta, no? Perché la cliente poi appoggiasse i piedi sulla vaschetta usagetta, avevano tutto sterile, era tutto perfetto e facevano pagare un pedicure, non so se 18 euro o 20 euro, sono arrivata io, l'ho messo a 35 che per me sono ancora pochi, però poi dipende dalla zona, lì era una zona che era vicina a Salò del lago di Garda, molto ricca, frequentata da gente molto benestante, quindi 35 euro di un pedicure in un contesto del genere ospedaliero erano più che giusti, insomma, e lì alcune clienti si sono lamentate, altre no, ma è bastato far capire il costo e il valore che loro avevano, cioè se io utilizzo questa signora con una vaschetta monodose, se io stellizzo e mi occupo anche della sua salute, questo avrà un valore, no? Ecco, io prima non ce l'avevano, io non posso più permettermi di dare questi servizi se non alzo il listino, allora decida lei se la sua salute vale 15 euro oppure no, però al limite possiamo agevolarla con una forma di abbonamento, e lei aveva iniziato a fare questi abbonamenti dove comunque le garantiscono sconto, dall'altra parte lei magari ne compra 10 di pedicure in modo tale da venirle incontro, però ecco c'era un dare a avere in questo senso, allora le possono, possono anche concepirlo. Grazie Linda, grazie mille. Ciao Mary, la Mary Gorgolani, ciao Mary, sentiamoci in questi giorni che un po' che non ti sento. Sabina, ciao Sabi, bravi, grazie Silvana, ma tu parlavi di sangue, per questo ho nominato le lame, perché le lime per unghie, se tu fai la limatura del gel o se tu limi in qualche modo anche il laterale così, a me esce sangue, io sono delicatissima e se tu hai la lima nuova mi tagli, ok? Ilaria, ma l'autoclave è diventata obbligatoria, all'ultimo controllo ASI non mi hanno contestato la sterilizzazione al quarzo, ma una rappresentante mi ha detto che non è più sufficiente, da quello che so io non è più sufficiente la sterilizzazione al quarzo, quindi l'autoclave è assolutamente obbligatoria. Io non ho Messenger, come posso fare? Non lo so Linda, ti faccio scrivere la Cree, ciao Vale, sei tornata dalle vacanze? Ok, su cos'altro si può risparmiare, per esempio si può risparmiare, come ho detto prima, su magari anche, io sono a favore del cambiare una volta all'anno gli asciugamani. Adesso voi mi direte che sono pazza, però a me piace l'idea che una volta all'anno uno possa fare un piccolo investimento di 200-300 euro, 400 quelli che sono, e butti via gli asciugamani lavati, stralavati, stralavati e ne compri di nuovi, allora si può anche pensare di risparmiare sugli asciugamani, di non spendere un capitale, ma di dare un ricambio molto, diciamo, frequente, in modo tale che l'asciugamano, se è bianco, torni ad essere bianco e si veda che è nuovo, che c'è cura nel dettaglio. Un'altra cosa sulla quale potete risparmiare, per esempio, sono i camici, ci possono essere delle soluzioni di camici molto belle comunque, dove non si spende lo stesso tantissimo, ci sono invece delle cose sulle quali non si può proprio risparmiare in nessun modo, tutto quello secondo me che ha contatto con la cliente, ha discapito della salute della cliente, del risultato della cliente secondo me non si tocca, che siano prodotti, che siano igiene, come posso dire. Quindi il lavoro tecnico in cabina e tutto quello che ne consegue se questa cosa da risparmiare e compromette il risultato che voi date non va mai fatto dalla parte dell'unico tecnica, quindi dalla parte unghie, dalla parte viso e anche sulla parte corpo, anche i fanghi. ragazze, io sono andata, ho preso l'aereo e per scegliere i fanghi sono andata fino a Napoli, ok? Secondo voi non ce n'erano aziende di fanghi che io potessi, io sono di Mantova, magari, non so, comunque più vicine o comunque avrei potuto far venire un'azienda, non so, venti rappresentanti, no? Sono andata io, ho preso l'aereo e sono andata perché mi sono scelta il fango veramente fango, quello che la fangotrapia quella, sapete il vero fango da spa, no? Io volevo quello e quello è formulato in un determinato modo, sembra quando lo spalmi una crema, quando lo togli non ti fa il disastro universale all'interno del centro estetico perché non si secca, non tira, è fantastico, rimane tipo una crema. Ha delle proprietà, è fatto in un determinato modo, è formato in un determinato modo, ha un suo costo, ma però se io applico un fango di quel tipo c'è differenza rispetto se io applico un fango che sembra trasparente sulla punta della cliente. Non c'è verso, non ce la faccio, cioè io ho fatto questa live perché volevo anche seguire quello che dicevate voi, il vostro punto di vista, su cosa riuscite a risparmiare, su cosa no, però su quel che riguarda i trattamenti, le clienti, e tutte queste cose si fa fatica oggettivamente, quindi o si fanno delle scelte e si va a momenti e si dice adesso cerco di investire sulla zona money e mi impegno economicamente, metto via un po' di soldini per potermi permettere di investire in quel servizio, gel di qualità, o nicotecnica pagata in un determinato modo, ecco parliamo anche di questo dopo, e si fa una cosa alla volta per arrivare alla fine ad avere tutto il centro estetico sano, ok, che la cliente possa percepire. Ecco, sull'altra cosa sulla quale secondo me non si può risparmiare, sono gli stipendi delle dipendenti. Ve lo dico perché ultimamente sento parecchie estetiste che mi dicono, Isa, qua le estetiste si prendono anche 600-700 euro al mese, magari si parla di zone di Roma, zona del sud Italia, e io rimango basita, no? Perché una professionista, un estetista di 25-28 anni, con un minimo di esperienza, che poi 28 anni non è un minimo, ma come minimo si fa l'estetista da sempre, ne ha un bel po', pagarla 600-700 euro è farle una mancia, secondo me, e questo ovviamente comprometterà il fatto che quel rapporto lavorativo non sarà un rapporto lavorativo idilliaco, perché appena questa persona troverà qualcosa di meglio, vi abbandonerà, voi dovrete ricercarne un'altra, riabituarla alla cliente nuova, perché nella vostra concezione mentale un estetista deve guadagnare quei soldi lì, sbagliatissimo. Quando voi, non so se voi la pensate come me, ma io credo fortemente, cioè mi piace l'idea che l'estetista di un centro estetico dovrebbero essere appagate economicamente e sentire il centro estetico come fosse suo, quindi incentivi, provisioni fisso medio-alto, perché devono venire a lavorare con la voglia di venire a lavorare. Se hanno un po' di tosse, non stanno a casa, vengono lo stesso, perché gli preme il fatto di non perdere un posto di lavoro del genere. Se una cliente si lamenta, è un problema ma anche loro, perché se perdono un lavoro così difficilmente ne trovano un altro. Quindi parto dal concetto che purtroppo non si può risparmiare su niente. Voi direte, come Cristo Santo si fa Isa? Cioè una bisogna che abbia i miliardi? No, purtroppo una deve per fare questa cosa qua, o fare come ho detto prima, quindi fare una cosa per volta, oppure capire cosa non va del centro estetico e agire in quel senso, ok? Quindi sistemare le situazioni. E questo vi permette poi di, cioè quello che voi date, poi vi torna indietro. Quello che voi ricercate in termini di perfezione, di capire dove sbaglio e di migliorarvi, poi vi torna indietro, vi torna tutto indietro. Invece il fatto di ma si fa lo stesso, tiro di qua, tiro di lì, tiro di là e il pensiero generale è tanto la cliente paga e non se ne accorge. Io ho fatto queste unghie qua in un centro dove ho lasciato una bella recensione proprio perché la titolare diceva così, diceva ma di gel ce ne sono tanti me ne frego. Peccato che quei tanti gel erano tutti finiti e i semipermanenti facevano i fili che venivano giù, quindi non c'era un rosso, per esempio che rosso è un colore, puoi non avere rosso, in centro estetico c'era un rosso scuro, 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 che può essere che a me non piaccia, mi piace al Ferrari o al contrario. Non c'era magari il fango, il carne che è un altro colore che non può mancare, può mancare l'azzurro, può mancare il giallo ma i colori basici non possono mancare, significa che tu vuoi risparmiare, vuoi far accontentare la cliente e se io ti dico il rosso non me ne fai vedere 5, me ne fai vedere uno, se mi va bene bene, se no sono affari miei, vado via ma incontenta io, tanto te i tuoi 35 euro, 40 euro te li ho dati lo stesso. Ecco questa fola qua finisce prima o dopo perché se trovate quella come me, mi scrive una bella recensione, non la vedete più e insomma dai 1, dai 2, dai 3 non ve lo consiglio e spero che non vi capiti perché questo significa chiudere, infatti lei sta chiudendo. Ok, se ogni cliente ha la sua lima il problema non si pone, anche questa è una buona idea Federica, preparare per tutte le clienti un sacchettino con il nome del cliente con il suo mattoncino, la sua lima, magari due lime, quella di cartone sottile e quella un pochino più grossolana e anche questa è un'ottima idea. Dei sterilizzatori a raggio UV cosa ne pensi che non sono sufficienti neanche quelli? Le mie clienti hanno tutti i kit di lime personali, bravi Sabina, bravissima. E fanno anche male starci a contattore tra l'altro, li fai pagare in più? Ok, ecco questo è un po' il mio pensiero. Ale mi dice anche meno come stipendio, in che senso dove abiti tu Ale? Allora ragazze, vi ricordo quello che vi ho detto prima che domani ci sarà il Black Friday e quindi chi non avrà potuto permettersi prima d'ora i corsi con noi di Welting o i miei corsi magari avrebbero tanto voluto, sappiate che abbiamo creato la promozione Black Friday per voi e c'è una piccola sorpresa anche per il vostro staff. Quindi orecchie, antenne alte domani perché finalmente potrete magari partecipare al prossimo Master che si terrà a marzo, aprile, maggio. Perfetto. 3 in 1, 3 in 2, 3 in 3. A Milano. Ok. 500 euro contratto tirocinio. Ecco Ale, allora quello che dice il contratto a livello di legge non è detto che un estetista lo accetti. Cioè se gli artigiani sono sottopagati purtroppo questo non può bastare come scusante per dire all'estetista tu stai qua 8 ore al giorno e prendi 500 euro. Capisci che è svilente, disumano per chiunque. Non faccio nomi di azienda, Narita, per quello non ti sto rispondendo. Le vedo i tuoi commenti ma non rispondono, faccio pubblicità. Quindi per finire di rispondere ad Ale, io 500 euro non li darei neanche, cioè forse li darei a, non so, un estetista brava? Ma cioè dovrebbe essere proprio il primo anno? Perché mi sembra di rubare, di rubare in chiesa, cioè non si fa, non punto. Che poi una persona non sia brava allora va licenziata, va lasciata a casa ma non va mai sottopagata una persona di base, come stipendio fisso. Non è giusto eticamente, non vi porterà niente di buono e appena lei avrà l'opportunità vi lascerà perché lo farebbe chiunque. Voi al loro posto lo fareste secondo me. Per l'estetista c'è anche il contratto terziario commerciale, non solo artigiano. Sì però dipende se tu sei un SRL o se sei una ditta individuale Sara. Perché se sei una ditta individuale non puoi fare il contratto commerciale che è più alto. Allora, non stiamo parlando Federica di part time, stiamo parlando di full time. Io pensavo di essere stata chiara, quindi è colpa di chi ci va a lavorare. Certo, sono d'accordo. I master, Vanessa durano, sono sei giornate totali, domenica lunedì, domenica lunedì, domenica lunedì. Quindi ogni mese sono due giornate, in totale sei. Ah ok, pensavo non stesse leggendo. Isa me l'ha venduto un centro. Ok, però non riesco a risponderti. Non sono d'accordo, nemmeno io, ma all'inizio lo fanno la maggior parte delle titolari. Io per esempio ho questo contratto perché ho iniziato a luglio, ma dopo non accetterei più. Vabbè, allora avrà un termine immagino, però anche come termine io non accetterei, sarei contraria. Piuttosto direi fammi due settimane di prova, fammi una settimana di prova in più, però io per 500 euro non vengo a lavorare 8 ore al giorno. neanche penso, non so chi prende così poco, insomma. Totale sei per tutti e tre i master? Sì, totale sei per tutti e tre i master. Scusami ma è Black Friday, non è il 23? Oddio, mi stai facendo venire... No, perché il Black Friday? Comunque adesso Cristiano risponderà, ma a me non risulta. Ok, quindi queste sono le cose in cui io credo fermamente. Ecco perché anche oggi abbiamo fatto una call con una start up, con Eleonora che sta aprendo a... Aspetta che mi viene in mente, Cristiano ha detto io vengo solo per mangiare in Sicilia, però non mi ricordo più dove. E abbiamo fatto una lista dell'onora lunghissima di cose alle quali un centro estetico si deve attenere, ok? Si deve attenere nel senso che sono troppe le cose importanti. Ok, mi state dicendo tutte che il Black Friday è il 23? Ok, però io ho sbagliato e vi dico per quale motivo me ha colpa. Perché domani, ecco perché ho sbagliato, domani c'era qualcosa in effetti. Domani per chi è iscritto al nostro bot, arriverà su Messenger la proposta del Black Friday. Ecco cosa c'è che arriva domani, ok? Però il Black Friday poi sarà, come dite voi, il 23. Ma domani so arrivarvi questo tipo di offerta. Ok, cosa stavo dicendo prima? Che adesso mi sono dimenticata. Non mi torno, non mi ricordo più. Cosa stavo dicendo? Ho perso il filo. Niente, come non detto. Vediamo. Adesso non mi viene ragazze, provo a farmelo ricordare. Intanto rispondo ad un'altra domanda. Ciao Isa, cosa ne pensi delle assunzioni interinali? Non ho mai affrontato l'argomento. Mi informo Federica e magari te lo faccio sapere. Va benissimo, noi ce lo prendiamo prima sto Black Friday. Grazie Jessica della lista di cose. Ah, brava Sabri, grazie. Santa Sabri da Bolzano. Allora sì, sono talmente tante le liste delle cose da fare per un centro estetico come start-up che questo dimostra il fatto che stasera vi ho detto tre cose sulle quali si può risparmiare. Perché veramente c'è tutto da guardare, dal gestionale, alla scheda anamnesi, alla carta intestata se uno vuole fare le cose fatte bene e dare un preventivo in busta chiusa con la sua busta intestata, alle shopper fatte personalizzate, al profumo per il centro estetico che deve ricordare un qualcosa alla cliente, potrei stare qua ore. Quindi se guardiamo c'è veramente tutto per far la differenza, oltre chiaramente alle cose per farlo funzionare, quindi i funnel, il fatto di usare la pagina social, tutte le cose più importanti rispetto a quelle che vi ho detto. ma se guardiamo ce ne sono tantissime altre, ok? Ecco perché io vi dico che ho le mani bucate, perché per le clienti io non risparmio, piuttosto mi privo di qualcosa, però se devo dare un servizio io devo fare bella figura, devo dare tutto, poi pretendo anche della cliente perché magari il mio listino prezzi sarà un pochino più alto rispetto ad un altro centro estetico, proprio in funzione del fatto che io le offro magari delle cose particolari, però io prima do e poi pretendo, non è mai il contrario. Isa posso rifare il must? No a te è bastato, è bastato farlo una volta Sabi. Ok, grazie che brava, tutti mi ricordate le cose che mi stavo dimenticando? Isa vorrei essere seguita per la start-up, allora Vanessa scrivi in posta privata su Isa in confidenza, ti chiamerà Mary, ti fisserà un appuntamento con me e con Cristiano. Perché della start-up ce ne occupiamo io e Cri, cioè tutti però le video call le facciamo io e Cristiano, perché lui parla della parte dei social e dell'assistenza. Ok, spesso le mie clienti, mi dice Debra, per tornare a parlare di compromessi non fanno alcuni tipi di servizi perché aspettano la promo. Assurdo, io spendo per prodotti, monouso, asciugamani, pulizie, laviamo in modo ossessivo, brava. Cosa posso rispondere a riguardo se mi sono stufata di fare promo, promo, promo e svalutare i miei servizi solo perché loro non vogliono spendere? Bella domanda. Allora, innanzitutto Debra, se tu hai esagerato con le promozioni e ne hai fatte a raffica e hai abituato male le clienti, è un pochino, permettimi, colpa tua, tra virgolette colpa tua, perché adesso loro si sono abituati in quel modo, avendo lo stesso, diciamo, la stessa qualità di prima, però spendevano la metà, non capiscono perché adesso non le devi più fare, quindi la promozione va centellinata e va calibrata e va fatta proprio solo quando va fatta, quindi mettiamo che l'errore a monte tu l'abbia fatto in quel modo. Detto ciò, si può spiegare alla cliente dicendo che le promozioni si chiamano promozioni proprio perché servono a promuovere un servizio che una persona non conosce, ma nel momento stesso in cui tu magari non hai bisogno di questa promozione perché il servizio lo conosci o lo fai già, io non ripeto le promozioni e le faccio personalizzate perché io allungo una mano verso la cliente abbassando il prezzo e la cliente la allunga verso di me provando un qualcosa di nuovo. Ma se tu sei già una cliente che da me fa tutto e comunque ti do un servizio di qualità, perché vorresti spendere meno? Spiegami, secondo te io valgo meno di così? Parliamone perché può essere. Allora lì c'è anche un po' un confronto. Detto ciò, Debra, tu dovresti sempre avere anche delle promozioni che servono non solo ai tuoi clienti per risparmiare, ma anche a te stessa per ottenere un, come posso dire, una contropartita. Ad esempio la cliente fidelizzata tua che vuole la promo, sì ti do la promo, però se qua fai mani e piedi, la promo comprende mani e piedi e radiofrequenza viso, cioè o qualcosa di corpo di viso per spostarla di servizio. Quindi c'è modo, bisognerebbe star qua a parlarne ore, questa cosa la faccio nell'assistenza continuativa, Debra. Ma io e te ci eravamo sentite, se non sbaglio dovevamo sentirci. Non mi ricordo più, ma mi sembra di sì. Però mi dirai. Suisa in confidenza, in posta privata per avere info sulla start-up? Lì sì, esattamente lì. Lì scrivi in posta privata, voglio avere informazioni sulla start-up e verrei contattata da Mary. Ok, che bella chiacchierata questa sera. Vi ho aperto la live con Cannavacciuolo. Sapete che oggi vi racconto una cosa bella? Mi ha scritto un ringraziamento il presidente di Apeo perché ha apprezzato molto il fatto che ho fatto un video su Ison Confidenza dove parlavo bene di loro. In realtà io non li conosco di persona, io li ho conosciuti in maniera indiretta, ok? Attraverso un progetto del quale mi sono innamorata che è appunto la linea cosmetica per prodotti chemioterapici e loro hanno visto il mio video quindi mi hanno ringraziata ed invitata a un corso che si teneva questo lunedì a Milano dove si parlava di statica oncologica al quale purtroppo non potrò partecipare perché ero già programmata con un altro corso e però andrò volentieri al prossimo e non vedo l'ora tra l'altro. Quindi volevo dirvi che sono stati carinissimi. Poi cosa volevo dirvi, volevo dirvi che farò, perché fa parte del gruppo ragazze, farò un'intervista a una persona speciale che è molto in gamba, lei ha un asilo nido e fa video come me da tantissimo tempo, mi fa molto meglio di me per quel che riguarda il suo argomento che sono i bambini. Lei è stata tuttora, purtroppo è in cura con chemioterapia, ha un tumore e farò un'intervista all'interno del gruppo a questa persona che si chiama Federica che poi vi presenterò e dove lei vi darà la sua esperienza da persona affetta da tumore e quindi in cura e camioterapica di tutte quelle situazioni cutanee, fastidiose, che una persona che ha questo problema purtroppo deve sopportare. Quindi ho voluto fare questa intervista per sollecitare ancora di più il fatto che dovete occuparvi anche di questi tipi di persone cercando dei prodotti che vadano bene per loro perché altrimenti loro trovano solo del gran cortisone e non hanno possibilità di mettersi nessuna crema perché nessuna crema può andare bene a parte creme studiate proprio per loro. Poi volevo dirvi, grazie spero di parlarne insieme a marzo, raccontarti per poterci conto, va benissimo. Poi volevo dirmi, volevo dirvi che giovedì e venerdì vado a Parigi quindi scoprirete da chi vado, che ha un segreto segretissimo, io e la Dani andremo proprio vicino a Place Vendôme in centro, 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 centro e andrò a farmi un trattamento al viso e non dico altro, ho già prenotato in uno delle Maisons più famose al mondo. È un lavoro duro ma qualcuno deve pur farlo per voi questo e quindi ho deciso di farlo io. Lo so che è una cosa difficile che non mi invidiate però insomma il mio lavoro mi chiama a fare anche questi sacrifici, cosa volete mai. Quindi vi informerò, faremo proprio, Cristiano lo chiama il vlog con la V, il vlog di Isa in confidenza, quindi dalla partenza tra l'altro mi ha preso una specie di stabilizzatore il bastone lì perché vuole che ci sia tutto perfetto, la Daniela diventerà pazza, lo so già e andremo, praticamente partiamo alle 4 e mezza di mattina, dobbiamo andare a Bergamo a prendere l'aereo, arriviamo là e abbiamo il tempo contatto per mettere giù le valigie, andare in questo posto, fare il trattamento, poi la mattina successiva alle 8 siamo già in partenza per tornare, quindi se no c'è andiamo a Parigi e se vedo la Tour Eiffel è già tanto, però insomma vi dirò tutto e non vedo l'ora perché vado a vedere un'azienda che inserirò nel mio centro probabilmente e io vado a vederle di persona le aziende, ok? Quelli che mi interessano prendo l'aereo e vado perché voglio capire, io vedo la differenza, vedo la differenza sul parlare con una gente con tutto il rispetto per i rappresentanti che si impegnano tutti i giorni, fanno un sacco di chilometri e se la smazzano bene anche loro, però non è mai come andare da chi li ha prodotti, da chi li fa, dalla concezione, da dove è nato il marchio e capire la filosofia che ci sta dietro per me è fondamentale per credere o meno in un progetto. Isa io vado, spero di conoscerti presto, un bacio enorme, è stato un piacere, grazie Anna Rita, grazie anche per me. Linda cosa ne pensi dell'Università di Estetica Ferrara, mi hanno detto che con il nuovo anno ci sarà anche a Milano, non la conosco Linda, non ti so dire. Sei felice come una bambina latale, proprio così? io insomma mi è contento di poco, poi in Parigi non è poco. Ciao Remy! Ciao dolce Remy mio! Ciao Remy! Remy è una persona speciale per me, è stato, vi dico un segreto, è stato il mio primo fidanzato di quando avevamo 15 anni, 16, siamo stati insieme per 5 ma ci vogliamo un bene della Madonna, quindi pezzo di cuore. Si fa così? Aspetta, così, pezzo di cuore Remy. Ecco vi ho raccontato anche uno scorcio di vita della Isa, ok? Sapete quelle cose che non si dimenticano, no? Eravamo bambini, siamo cresciuti, però le persone belle non le dimentichi più e lui è una persona bella e speciale. Va bene, adesso a parte questa dedica a Remy, che ovviamente sa come la penso, che magari potevo evitare adesso che ci penso perché io sono sempre bella spontanea, però forse un po' troppo, però dai, ormai mi conoscete, mi va anche di raccontarvi qualcosa di me, ogni tanto sono qua, si parla sempre solo di robe professionali e non si conosce mai chi è davvero la Isa. Quindi ogni tanto, anche se vi dico chi sono, non c'è niente di male, spero. Adesso sentirò Cristiano, mi dice, ma volevi raccontare anche, non so di quando, la Cri porta pazienza, sono pezzi di vita e va bene così. Ok, non tutte le aziende danno questa possibilità però, sì, ma quasi tutte però, sai Federica, quasi tutte. Io lo chiedo, lo esigo, di conseguenza se vogliono vendermi i prodotti mi devono dare l'opportunità di vederla. Poi qua c'è un simbolino speciale, che però non posso svelarvi ancora, che ho preso a Napoli, in una gioielleria, e ha un simbolo che per me ha significato, e che pensate, in questa gioielleria ci sono stati Dolce Gabbana e gli stilisti, che sono passati, vi ricordate quando hanno fatto la sfilata di Dolce Gabbana di Prat-à-Porter per le vie di Napoli, con Sofie Laura e Monica Bellucci, non so se vi ricordate. Ebbene, loro sono passati davanti a questa gioielleria, hanno visto che lui disegnava gioielli particolari, era un artigiano, e hanno chiesto ci faresti un gioiello per l'evento, da lì è diventato famosissimissimo, e praticamente ha fatto questa, in realtà non è questo, in realtà il gioiello che ha disegnato per Dolce Gabbana è un cuore con una corona, e è diventato famoso, gliel'hanno chiesto tutti, perché poi Dolce Gabbana gliel'ha firmato, quindi insomma. Ecco, niente, quindi ho preso questo, che è un preannuncio di un qualcosa che vi dirò a breve, che è un po' importante. Va bene, detto ciò, sono le 10, spaccate in punto, io ho fatto il mio dovere. Ecco, infatti la storia di Instagram è finita, che dura un'ora esatta, neanche a farlo opposta. Vi ricordo il Black Friday, domani vi arriverà l'offerta, però a questo punto voi ne sapete più di me, e quindi ci sarà il 23, e quindi insomma mi raccomando, che spettacolo Isa, si invidia, buona per te, almeno saremo lì con te in live, si sarete a Parigi in live con me, speriamo che la connessione mi aiuti. E nulla ragazze, io vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo l'offerta del Black Friday, mi raccomando, mi raccomando, perché è un'occasione di sconto importante per chi non è potuto esserci prima, ok? Baccio, bacio, bacio, aderiso in confidenza a tutti voi, ciao!